Ovviamente vediamo l'azione, non mi verrebbe mai in mente di lasciarvi senza. Eccolo lì Caio Giorgio che, appunto, salta l'uomo, offre un passaggio interessante e qualità nel dribbling. Ci siamo, finalmente Caio Giorgio, pronunceremo così il suo nome, chiedo scusa eventualmente a tutti gli amici brasiliani. In ascolto, dicevo, Caio Giorgio è finalmente un giocatore bianconero. Finisce questa telenovela, è nostro, non è nostro, è in scadenza, non è in scadenza, ormai poco importa. Parleremo delle sue qualità, secondo me è un giocatore letto malissimo da molti giornalisti e molti anche tifosi appassionati di calcio. Ci sono fatti un'idea, secondo me, abbastanza errata di quello che è il giocatore. Ma ragazzi, siamo qui apposta per analizzare Caio Giorgio. Ovviamente, i commenti qui in basso a vostra disposizione per commentare, per opinare sul profilo. Però, prima di iniziare, come sempre, ricordatevi di iscrivervi al canale, attivare la campanella per le notifiche e lasciare un like al video, che ovviamente aiuta sempre. Passate i suoi miscouting per quanto riguarda tutti gli altri social, il sito internet per i corsi di match analysis e scouting. Volete diventare osservatori, match analyst, data analyst? Per settembre, ultimi posti disponibili? Facebook, Twitter, Twitch, Instagram, il gruppo Telegram, tutto qui in basso in descrizione. Ma, 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 ovviamente dobbiamo parlare del buon Caio Giorgio, giocatore brasiliano che ha incuriosito molti. Milan, Benfica, Juve. Passiamo alle statistiche che ci offre Instat, partner ufficiale dei nostri corsi, per approfondire, innanzitutto dal punto di vista statistico, che tipo di giocatore è. Innanzitutto è un classe 2002, 19 anni. Giocatore che va contestualizzato in questa fascia d'età. Giocatore che può sicuramente migliorare nel futuro, però ovviamente c'è del lavoro da fare. Approfondiremo immediatamente. Alto, 1,82 m, pesa 69 kg. Non è un giocatore pesantissimo, non ha una grandissima stazza, però per l'età che ha, secondo me, ci sta alla grande. Piede destro, centra avanti. Il campo ci dice che, ragazzi, posizione centra avanti, 100%. Già qui ci sono pochi dubbi sul suo ruolo. Vi avviso che approfondiremo, ovviamente, il concetto, però ragazzi, iniziamo a farci questa idea precisa, che è un attaccante, una punta centrale. Andando oltre, guardiamo qualche statistica. Per partita, ha giocato durante l'ultima stagione 37 partite, 10 gol, 4 assist, 2 errori da gol. Ci interessano poco. Un giocatore che comunque i suoi gol li fa. Medie per partita, passaggi chiave 0,41. Media non esaltante. Un tiro, punto 84 per partita. Qui sì, il numero diventa abbastanza interessante per un attaccante. I cross, ovviamente, non ci interessano, dato il ruolo del giocatore. Duelli, 12, ne vince 33%. Ragazzi, anche qui statistica non entusiasmante. Ci sta data l'età, però, ovviamente, approfondiremo in seguito. Duelli aerei, 4,1 per partita. Anche qui ne vince pochini. Dribbling, un dribbling e mezzo per partita, 47% di effettività. Contrasti, 0,97 per partita. Ne vince il 36%. Dati e statistiche, oggettivamente, non entusiasmanti. Quando noi osservatori buttiamo un po' l'occhio sulle statistiche e nessuna percentuale di effettività supera il 50%, ammetto che un po' di dubbi vengono. Però, ovviamente, non sarebbe analisi senza la nostra amatissima lavagna tattica che ci verrà in soccorso per approfondire e contestualizzare il tutto. Qui voglio mettere una pietra tombale sul discorso ruolo. Ne ho lette di ogni. Il nuovo Neymar, per ruolo, innanzitutto, no. Per caratteristiche, no. Non c'entra niente con Neymar se non per la capigliatura. In Italia, come ho già detto nel precedente video su Caio, siamo abituati un po' a paragonare i giocatori per capigliatura. C'è Tonaglio uguale a Pirlo, c'è Caio Giorgi uguale a Neymar. Ragazzi, gioca in un 1-4-2-3-1, 1-4-3-3, è sempre lì davanti a fare la punta. Può svariare su tutto il campo, può giocare anche... Lasciate stare, mettiamo una pietra tombale, ripeto, su questo cacchio di argomento. Passiamo però alle cose serie. Attaccante, qualità nella finalizzazione, freddezza, che tipo di giocatore è? Secondo me, questo è il suo punto di forza principale. È un giocatore che sa giocare bene lì davanti, a livello di posizione e lettura delle situazioni. Un giocatore che sicuramente sa il fatto suo. Come vedete in questa slide, che ci suggerisce che ci troviamo di fronte ad un giocatore capace di attaccare la profondità, giocare anche, ballare sulla linea del fuorigioco, per attaccare lo spazio qui evidenziato in giallo. Ripeto, sa leggere le situazioni, sa buttarsi lì in avanti e sa finalizzare le manovre. Vi faccio vedere l'azione per capire meglio di cosa stiamo parlando. Lo possiamo vedere lì, appunto, nel cuore dell'area. Azione che va avanti, la legge bene, si butta su questa palla, gol del buon Caio Giorgio. Quindi da questo punto di vista, solo da questo punto di vista, per carità, mi ricorda più Inzaghi che Neymar. Ovviamente no, c'è una certa differenza tra i due tipi di giocatore. Ha segnato una serie di gol in questo modo, proprio a conferma di queste sue doti. offensive. Passando oltre, ma sa dribblare, tecnicamente com'è. È un giocatore che salta l'uomo. Da questo punto di vista, un giocatore, secondo me, abbastanza interessante. Un giocatore che, sicuramente, ha da migliorare. Non sempre è efficiente nelle giocate. Abbiamo visto le percentuali in precedenza. In questo caso, salta l'uomo. La freccia suggerisce che l'avversario, anche dalla postura, sta per andare a vuoto. Si accentra, secondo me, offre un passaggio abbastanza succulento. Da questo punto di vista, un giocatore che deve migliorare, ma già, attualmente, avendo 19 anni, sa il fatto suo. Ha personalità nelle giocate. Non ha queste qualità in campo aperto. Ovviamente, vediamo l'azione. Non mi verrebbe mai in mente di lasciarvi senza. Eccolo lì, Caio Giorgio, che, appunto, salta l'uomo. Offre un passaggio interessante. Qualità nel dribbling. Ripeto, abbastanza positive. Roba che, per un attaccante, ragazzi, non si butta mai via. Passiamo oltre nel passaggio, nella regia offensiva. Come, da questo punto di vista, un giocatore discreto. Nella media non lo andrei a classificare come un regista offensivo. Per me è più interessante il modo in cui va a posizionarsi, nel momento in cui deve sviluppare l'azione lì davanti. Infatti, in questo caso, vediamo la freccia tratteggiata, che ci suggerisce di nuovo grande verticalità nei movimenti, nella corsa. Da questo punto di vista è interessante. Si va a posizionare in zone sicuramente positive, qualità discrete. Non mi entusiasma da questo punto di vista, però, ragazzi, sicuramente non è un giocatore negativo. Dove, però, deve sicuramente migliorare è il contributo che dà nel momento in cui deve aiutare la squadra a salire, soprattutto per quanto riguarda il gioco aereo. Non è un giocatore altissimo, ma, ragazzi, il suo ricco, un metro e ottantadue, ce l'ha. Quando si tratta di raccogliere, appunto, palloni alti, secondo me qui viene un po' meno. A volte non ci prova neanche, a volte sembra disinteressato, a volte semplicemente, tecnicamente, non è abbastanza quello che fa. Si fa sovrastare spesso e volentieri dagli avversari, non segna gol attraverso colpi di testa, quindi, da questo punto di vista, c'è del lavoro da fare. Sicuramente, l'aspetto che, ripeto, mi preoccupa di più è il fatto che, quando la squadra ha bisogno di respirare, quindi deve spazzare la palla, Caio Giorgi, da questo punto di vista, secondo me, può essere poco d'aiuto. Ovviamente, per il momento. Guardiamo anche questa azione, la vedete lì, questa palla che cade, semplicemente, lui salta, ma, tecnicamente, non ci arriva. Non è un giocatore che dà grande affidabilità, da questo punto di vista. Quindi, una volta per tutte, abbiamo letto e visto quello che è Caio Giorgi. Ragazzi, sono super curioso di sapere la vostra, amici giuventini. E non, qui in basso nei commenti, sbizzarritevi, perché sono davvero curioso. L'analisi di oggi finisce qui. Come sempre, spero che questo video vi sia piaciuto. Lasciate un like e condividetelo, se vi va. È stato un piacere enorme passare questi minuti con voi. Un salutone e al prossimo appuntamento. Ciao! Ciao!